Sei un appassionato di musica? E allora vieni a vedere la box che abbiamo composto per Paolina con tutti gli oggetti più carini della nostra cartoleria, proprio tema musicale. Scegliamo la box, che già so che non basterà a contenere tutto, ma almeno ci proviamo. E iniziamo dal case. Astuccio effetto 3D con la chiave di violina e tutte le note musicali. Una penna e una matita, sempre tematizzata e abbinata con la stessa grafica. È un album di fotografie, un fotoalbum, ragazzi, è fantastico. All'interno è composto da tanti cartoncini neri, quindi dopo aver applicato le vostre fotografie grazie a queste angoliere adesive, potete completare i vostri ricordi con una penna bianca. Un salvadanaio con tanto di lucchetto e chiave. E la mitica cassa speaker bluetooth, è impermeabile, ha una ventosa e la plancia comandi qui sull'alto. Una mag termica, da 260 ml, è termica ed è anche ermetica, quindi potrai portarla in borsa senza rischiare di bagnare tutto il suo contenuto. Un bracciale con una simpatica nota musicale che, se la giri dall'altro lato, è una bicolor. Rosa da un lato, argento dall'altro. A cui abbiamo abbinato anche una collana, così sceglierà quale indossare. Un case trasparente, sempre note musicali, che è super comodo per contenere tutti i tuoi prodotti preferiti. E la simpatica tazzina da caffè in pet. Il pet è un materiale che mantiene naturalmente la temperatura, è dotata di coperchio in silicone ed è super super cute. Abbiniamoci anche il bicchiere, nelle stesse grafiche, che ha anche il tappino qui in alto. E l'anello in silicone, per evitare di scottarti se mai mettessi qualcosa di troppo caldo. Una tazza in ceramica, guarda il manico quanto è carino, con la nota musicale. Ed è fantastica ragazzi, veramente molto molto cool. Una borraccia termica, 24 ore freddo, 12 caldo. Fondo nero, con questa bellissima chiave di violino, con il tappo, sempre con la guarnizione per evitare che fuoriesca il liquido. Un ombrello dalla chiusura automatizzata, si apre e si chiude da questo bottoncino. E un taccuino e un diario segreto. Il taccuino è puntinato ed ha l'elastico per tenere tutto unito. Andiamo avanti, inseriamo il mini astuccio, questa volta è in tessuto, non è in PPL. E un bigliettino di auguri, così che la mamma potrà scriverci gli auguri per la sua promozione. Un taccuino con penna, aspetta è al contrario, eccolo qua, perché non bastano mai in casa i taccuini. Bisogna scrivere sempre tutti i propri pensieri e la box è terminata. Che ne dici? Ti è piaciuta? Scrivilo nei commenti. E soprattutto lasciami un like. Ornella è al mare, ma quando ha visto sulla nostra pagina la nuova collezione scuola dedicata al Napoli, fatta da Colorbook Italia, non ha saputo resistere e sono scattate subito le due box. Partiamo dal super tifoso Diego e abbiamo scelto due quaderni della nuova collezione. Grazie. 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 Grazie.